Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli sgabbei o pane fritto. Il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa. Ingredienti sono farina di semola, farina manitoba, acqua, zucchero, sale, olio evo e lievito di birra fresco. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azionare il bimbi per tre minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, la semola, l'olio e il sale. Ed impastare in modalità spiga per quattro minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno due ore. Trascorso il tempo l'impasto è ben lievitato trasferire su un piano di lavoro leggermente infarinato e stendere formando un rettangolo alto un centimetro. E ritagliare delle strisce da 15 centimetri di lunghezza per due di larghezza. Distanziare e lasciare lievitare per 30 minuti coperti con un canovaccio. Friggere in abbondante olio caldo fino a doratura. sgabbeio pane fritto. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!